Gian Pietro, sembrano essere più maturi i tempi per l'apertura di una farmacia nel quartiere Fontanella di Pescara, soprattutto nella zona di Via Caduti per Servizio. Voi da tempo invocate questa apertura e state lavorando in questo senso? Sì, c'è stata anche una petizione di circa 2000 cittadini che hanno chiesto proprio che in questa zona aprisse questa farmacia. Ora, dopo tre interpelli, finalmente una farmacista ha accettato di aprire in questa zona. Ora, il punto è questo, che entro 180 giorni dalla comunicazione deve aprire effettivamente la farmacia. Il punto è che l'area in cui può aprire, benché stata molto ristretta negli anni passati, comunque è un'area ancora abbastanza ampia. Invece è questa l'area in cui dovrebbe aprire, a nostro giudizio, la farmacia proprio per far sì che ci sia quel presidio sociale, di aggregazione, di servizio che può aiutare questo quartiere a vedere crescere la quantità della vita. E quindi diciamo che il Comune oggi può mettere uno dei suoi locali liberi, che sono qui a piena di terra, delle palazzine di vacute per servizio, a disposizione di questa farmacia. In modo che ci può anche essere una spinta affinché apra qui la farmacia, con un locale che grazie anche al nostro intervento in Commissione di Controllo e Garanzia, oggi sono in via di accatastamento, purtroppo sono spesso locali che in passato non erano stati accatastati. E appunto a febbraio facciamo una commissione proprio su questo argomento, che ha anche in qualche modo spinto gli uffici a accelerare su questo piano. Ora però c'è finalmente una possibilità, da un lato privato, che una farmacista ha accettato di aprire in questa zona. Dall'altro questi locali, grazie anche al nostro intervento, sono in fase di accatastamento. Oggi diciamo che queste due cose si possono incrociare per far sì che finalmente via di servizio abbia la farmacia. I tempi? I tempi dipendono chiaramente in parte dal comune, ma ci sono circa 90 giorni ancora di tempo perché questa farmacia apra. Quindi sono pochissimi giorni, ma crediamo che se c'è la volontà questa volta si possa accogliere l'obiettivo. Noi diciamo che oggi ci sono tutti gli strumenti per che questo accada.